Vai! Allora, questo è il Tg dei Trescaldini. Buongiorno, buongiorno. Qual è l'imprinting? L'imprinting io vedrei... Vorrei vedere questa qua. Questa gente che guida ubriaca, cosa si può fare con questa gente che guida ubriaca e travolge tutto. Questa è una notizia grave. Io ce l'ho una soluzione. Però la mia un po' drastica. La mia soluzione, io togliamo la patente di base, aspetta, però non basta. E poi dopo vi facciamo lavorare nelle fognature di Bologna che ce n'è bisogno. Nelle fognature di pulizia. Sotto nelle fognature. Sotto nelle fognature. Sotto. Sotto. Non sotto. No, no, troppo comodo. Sotto. Che c'è da lavorare. Tu che hai esperienza di Bologna come noi, sappiamo che sotto ci sarebbe da lavorare tanto. E da lì uno si... Lo cominciamo, diciamo, a educare. E si redime. Si spera che si... In mezzo all'acqua, però, eh. Nell'acqua si è nell'acqua, perché se no, se non è nell'umido, non va bene. E noi nell'umido no. E dopo beveremo. Sì. Sì, perché l'acqua la piglia dai piedi. Abbiamo commentato la notizia del giorno. Esatto. Edicola dei Trescalini, martedì dei Trescalini, come la chiamiamo. Ma io direi... Sì. Location edicola. La location qual è la location? La location Trescalini. 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 Location Trescalini. Perché non si può andare da altre parti. No. Trescalini. Qua. Schiaccio.